Buongiorno a tutti, abbiamo fatto un sondaggio tra i nostri lettori e chiedendo loro come vedono il loro mondo interno, come stanno con se stessi, insomma la cura di sé, bisogna dire che più del 70-75% per dire di una cosa che desidera, dice mi piacerebbe non tormentarmi più. Abbiamo esteso questa indagine anche ai non lettori di Rizza e anche qui abbiamo visto che tre persone su quattro mettono in primo piano nel loro mondo interno l'idea che sono sempre in lotta con se stessi. Allora abbiamo dedicato con tutti i colleghi di Rizza, degli psichiatri, degli psicologi, degli psicoterapeuti, questo numero al non tormentarsi, impara a non tormentarti più. In cosa consiste il non tormentarsi più? Voi sapete che Rizza è un giornale che parla proprio perché viene dall'esperienza del lavoro psicoterapeuta di tutti i giorni con i nostri pazienti? Rizza è un giornale molto dedicato alle storie, noi parliamo di storie, le cose che raccontiamo su Rizza sono tutte storie vere, pratiche, sono storie che capitano e possono capitare a ognuno di noi. Qual è il tormento per cui si va spesso in psicoterapia? Uno dei tormenti principali è, vede dottore io sono sposata da vent'anni con un uomo con cui non vado d'accordo. Sapesse quanti anni ho provato a pensare, a ripensare come allontanarmi da lui. Insomma, praticamente lui ha pregiudicato e ha reso difficile la mia esistenza. Altri si tormentano perché non hanno fatto una scelta nel passato, per esempio andare ad abitare in un'altra città, fare un altro tipo di lavoro. Altre donne si tormentano perché non hanno avuto figli in giovane età e sono insommesse a inseguirle quando erano più mature e poi non sono arrivati. Altri si tormentano perché non hanno il corpo che vorrebbero avere, non hanno la bellezza che desidererebbero. Insomma, ci tormentiamo perché non ci sentiamo riusciti. Ecco, su questo numero di Rizza noi parliamo di questo, di cosa fare quando tu non ti senti riuscito, quando tu senti che hai sbagliato qualcosa nella vita, quando ti tormenti. Insomma, quando dici quella frase che non vedi l'ora di ripetere alla tua amica del cuore o che non vedi l'ora di ripetere in psicoterapia, io non mi vado bene. Io non mi vado bene. Mi tormento perché non mi vado bene. Mi tormento perché non mi vado bene, perché non è andata bene come volevo la mia vita e perché non sta andando come vorrei. Ecco, questo numero di Rizza è dedicato a tutte queste persone, soprattutto alle donne, che sono quelle che più di altri possono apprendere questi discorsi, ma vale per tutti, vale anche per gli uomini. Sono sempre di più le mail degli uomini che arrivano a Rizza, tra l'altro. Quindi si rivolge a coloro che sono insoddisfatti, profondamente insoddisfatti, che trasformano questa insoddisfazione in un tormento. Ed è dedicato a quello che si deve fare. Vi faccio un accenno che troverete poi sul giornale. Che cosa si deve fare? Si deve incominciare a dire, al di là del mio tormento, al di là delle cose giuste o sbagliate che sono accadute? C'è qualcosa dentro di me? Se mi occupo di questo qualcosa dentro di me, io posso trovare la felicità anche nel tormento? E allora scoprirete una cosa, che più gioia producete anche nella situazione tormentata, più i tormenti vanno sullo sfondo. questo. Questa è la Rizza che spero sia utile, ma dalle vostre mail mi sembra proprio di sì, che spero sia utile per il vostro benessere. Buona lettura.